Ovviamente non possono che essere degli auguri sul 2013 perché sia un anno migliore di quello che abbiamo trascorso, sia l'anno in cui pian piano il nostro paese ritrova la strada per uscire dalla crisi. Noi in Puglia ci stiamo provando, a Puglia è una di quelle regioni nelle quali si stanno sperimentando delle strade per capire che si può rispondere in modo positivo alla crisi, si può uscire in modo innovativo dalla fase di trasformazione che stiamo attraversando. Io penso che i migliori auguri che si possono fare in questo tempo è prendere coscienza che siamo di fronte a un cambiamento irreversibile, di esporsi al tempo nuovo, con un animo, con uno spirito nuovo e nulla sarà come prima. L'augurio è che possiamo prendere coscienza e in base a questa consapevolezza maturare dentro di noi con lo spirito di curiosità, di stupore che ci aiuta a capire anche il nostro posto nel tempo che sta arrivando. Auguri.